Io sto con Libera perché sto dalla parte dei buoni e come si sa i buoni alla fine vincono sempre sui cattivi e credo di fare la cosa giusta nella lotta alla criminalità stando insieme a Libera, stando insieme alle associazioni, stando insieme alle persone per bene della mia città, una città che deve avere la forza di fare uno scatto in avanti e di denunciare alla criminalità.